Anche oggi la crisi si apre domani al termine del Consiglio dei Ministri. Convocato per le 21.30 sul piano di ricostruzione, non arriveranno le dimissioni più volte annunciate delle Ministre d'Italia Viva, Bellanova e Bonetti. Crisi rinviata domani forse quando nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Renzi che con molte probabilità dovrà sciogliere il nodo. Si continua comunque a trattare una giornata caratterizzata ancora dal braccio di ferro Conte-Renzi che si apre intorno a mezzogiorno quando Palazzo Chigi lascia trapelare una velina che accende subito gli animi già surriscaldati. Se Renzi si sfila per Conte non sarà possibile un altro governo con Italia Viva. In serata la risposta di Renzi per il quale Conte evidentemente avrebbe i numeri parlamentari per andare avanti ipotizzando il voto dei cosiddetti responsabili in sostituzione di quelli di Italia Viva che passerebbe all'opposizione. I Cinque Stelle invece si ricompattano intorno al Presidente del Consiglio mentre il PD ribadisce il no alla crisi di governo in questo momento delicato che metterebbe a rischio anche ristori e aiuti agli italiani in difficoltà. Il quadro così resta incerto con tutte le ipotesi sul campo dal Conte-Ter ad un nuovo governo senza Conte a quello meno gettonato delle larghe intese. le opposizioni relegate ai margini della partita provano a far sentire la voce e criticano quello che considerano un gioco di palazzo.